1-1 andiamo 2-2 si che è successo? bisogna che le strade entrambe nella stessa buca ma com'è possibile? 2-3 ma io non batto mai 2-2 in battuta ma sei fuori dal campo ma quanto ti ha fatto mai la palla? ah perchè non sono sei primo ok 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 c'è l'alzheimer c'è l'alzheimer 3-4 e dovrei anche staccare no 3-5 in diagonale ok copri la diagonale 4-6 bravo FUPA 4 ne hai sbagliati 2 vieni vieni sopra il caso nessuno come è aperta ordine glielo vicino 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 ma quanto vicino? un metro dai sì sì c'è la sera brava 5-8 a Cagliari a Cagliari fanno così apri apri e tu a muro spacca in la faccia merda cazzo devo farlo di lane eh bastava difendere con un bugger senza avere l'ansia 5-10 5-10 5-6-11 7-12 7-12 Laura scambiate con Chiara da battere 7 vai 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 i 2 metri in 40 secondi sono i belli però eh sotto gli affascinati taglierò questo pezzo e ci metterò non è lama viola 1-2 ha fatto quasi uno scatto ha fatto spezzale di più quelle braccia che funziona 1-3 Laura ti sta sabotando per non farti fare 7 2-3 2-3 ce l'hai ce l'hai dietro 3-3 brava Chiara no ma perchè è forte puoi andare da dove vuoi basta che vado a destra 1-4 dai dai brava è aperta hai fatto la palla giusta Ruggio 1-5 Laura devi saltare da qua da qua da qua da qua da qua che vuol dire un metro da lei che vuol dire un metro da lei che deve stare dentro scusate palla 1-6 fai bene al rincorso del gesto d'attacco che non salti palla 1-7 bella battuta palla 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 4-11 bella palla 4-11 palla 4-12 cambia coppia come volete raga non faccio da sola io sono brava palla non fai quella su no aspetta vado io? vai vai palla 0-2 andiamo massacriamola non dobbiamo farla arrivare in attacco se no ci fa punto 1-3 palla pronta a prendere le righe pregevole vieni via vieni via 2-4 vado io palla ma dove vuoi arrivare? con questo stacco perché è finito il campo poi 3-5 palla e tu a peva 4-6 cerca di tirarla su di bagger quella lì non la fare a un braccio palla 4-7 stranamente fuori grande battuta molto bene 4-8 brava peva hai visto hai fatto bene sta molto brava infatti dai 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 madonna santa oh ma che cazzo di guai le battute lo dico io è una merda quella battuta difendi la palla 5-10 5-11 ci sono anche i microzanzali ma che cosa è? palla e non ci sono pamponi madonna è un po' in mezzo va bene giusto 5-12 cambio rugge palla palla ti muro però sei va seguita stavi guardando gli alberi gli uccillini 1-1 palla un po' più bassa ed è perfetta 1-2 vai giù con le gambe non gli dare il colpo con la testa è corta è corta se lei è in difesa tu stai lontana ma la prima non stavo di andare a prenderla io ma stai chiedendo l'ha urlata a lei ho capito ma io ormai ero già lì ho capito ma tu ti ricordo che ti muovi 2 metri a ogni 40 secondi insomma non va benissimo palla questo grande attacco brava 4-5 muro Laura palla 4-6 5-7 fai capo 5-8 6-9 brava rugge non voltare le spalle in fase di attacco colpisci il centro del campo se stacca 6-10 devi farle entrambe per vincere palla oh meno male 6-11 questa per pareggiare con pizzatti hai detto tua sorella che la sbaglierà sicuramente perché hai detto che non c'è asti ho detto palla apri carta palla vicina bella vicino 6-12 cambio ma vai di là con la peva lunga corta le spezziamo il fiato e la mandiamo all'inferno palla 1-1 1-1 va bene così vada quella è l'elea 1-2 vai ancora corta sì palla io prendo piazza però è giusto è giusto è bellissima 0-0 sì c'è come era l'ultima partita che facciamo andare lenta lenta negli aree a prendere il pallone si chiara un ruolo in faccia chiara 1-3 dighilo quando è che inizia ad arrivare gli attacchi che se no ti difreddi la vecchia volpe no no hai ragione hai ragione hai ragione devo attaccare il piatto 2-4 ha avuto il tempo anche di decidere cosa fare palla devo attaccare c'è brava Ruggie brava Ruggie 2-5 ma dove è il Balù? c'è Balù è arrivato Balù ciao Balù direttamente al libro della giungla c'è 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 Dracarys nessuno Luca mamma mia chiara 2-6 sei l'antipeva sei non le fai cascare un pallone in attacchi più forti di prima 2-7 Zanini che amministra le energie dai 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 palla c'è 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 alta ma perché sei in piedi in fondo al campo? ma chi devi raggiungere in piedi in fondo al campo? 3-8 si Non sono come noi. Vero. Sì, sì, sì. Sì, Chiara. Vero, Chiara. Brava, Chiara, ripassagli e che la difende di nuovo, Chiara. Sì. Chiara, no. 4-10, Chiara. Ho perso i miei poteri. Chiara, sei la sua nemesi. La costringe a dare il massimo. Palla. Madonna. 5-11. Tagliele. Palla. Sì. Vai, che sei la sua nemesi, Chiara. Ti teme, Chiara. Sì. 6-12, acqua.